Quanto prima? E Giovanni, diciamo intanto 1, 2, 3 ricette ma faremo 1, 2, basta e avanza Giovanni, cosa combiniamo? 3, 1, 2, 3 la prima è una carbonara in mare la seconda è un piatto di carne che faccio io in famiglia da un'eternità che è carne al fumo che vi farò mangiare con delle macchine energia energia il terzo è un semplice zabbaglione però fatto denso con le scorze dietro caramellate e saremo pronti sicuramente è stato il terzo nessuno si muove a dopo, lei ritenziato me il fumo come la prima amica è una ricetta di famiglia nostra signori, è arrivato il momento che tutti aspettavate guardate lo spettacolo ragazzi Giovanni, sei solo il momento adesso è il mio momento mi sa che sarò più in posto spero ah 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 vabbè io spago il livello un po' il mio piacere il resto signore e signore Pinieco preparatevi e buon appetito a tutti ciao